Buonasera e bentrovati a questa nuova puntata di Unica Talk Sondrio. Con noi in studio abbiamo invitato l'arcipriete di Sondrio, Don Cristian Bricola. Buonasera Don. Buonasera a voi. Allora, in questi giorni proprio ha lanciato una proposta ai suoi parrocchiani chiedendo la disponibilità anche a collaborare. Ce la spiega? Sì, è una proposta molto semplice. Nasce dal fatto che in questi ultimi mesi, in quest'ultimo anno, sono aumentate le persone che dormono per strada, che dormono al freddo. E quindi, vedendo la situazione, mi sono posto proprio la domanda se potevamo fare qualcosa. Arriviamo dalle feste di Natale in cui abbiamo guardato a Gesù bambino che è nato al freddo e al gelo e non c'era posto per loro nell'albergo. I nostri sentimenti in quei giorni sono stati povero Gesù bambino e allora ho detto, ma allora possiamo fare qualcosa per le altre persone che stanno al freddo e al gelo? Allora è nata questa proposta. E che proposta è? Ma l'idea è molto semplice, di aprire un locale dell'Oratorio dell'Angelo Custode per ospitare di notte alcune persone a dormire al caldo. Però in concreto non so ancora dirvi come sarà, come non sarà, ma non so neanche dirvi se riusciremo a farla questa proposta. Perché abbiamo fissato una riunione, un appuntamento per trovare i volontari. Questa cosa è possibile solamente se qualcuno ci dà una mano. E quindi sono contento di essere qui, anche perché facciamo riecheggiare un po' questo appello, non solo alle persone che vengono in chiesa, ma anche a tutte le persone buone, di buona volontà che ci sono a Sondri. Questa è una proposta diciamo recentissima, che come dice lei, sarà possibile se i sondriesi risponderanno sì alla chiamata in questo caso. Ma la parrocchia è già attiva sul fronte dell'aiuto ai senza tetto, vero? La parrocchia da diversi anni, prima ancora che arrivasse io, quando c'era ancora Don Marco, ha preso in gestione il centro di prima accoglienza, che è del comune, l'immobile del comune, convenzionato dalla provincia e delle varie comunità montane, e in quella struttura ospitiamo otto persone. Otto persone che sono seguite dai servizi sociali, che stanno facendo dei progetti per recuperare la loro vita, per ricominciare a lavorare, e solo che questa struttura è sempre piena. È sempre piena, anche perché in questi ultimi anni, soprattutto in queste estate, tanti hanno lavorato nelle vigne, nei campi, nella raccolta delle mele. Mandarli via voleva dire fargli perdere il posto di lavoro e quindi peggiorare la loro situazione. Quindi quella struttura funziona, però purtroppo è sempre piena. Quali sono le altre realtà associative di Sondrio che operano in questo senso? Beh, per fortuna c'è tanta vivacità. C'è il Mato Grosso, con la mensa all'immensa, che dà da mangiare a tutti a pranzo per quattro pranzi a settimana, e stanno vedendo se riescono anche lì, se trovano i volontari, a coprire anche un quinto giorno. C'è la San Vincenzo, che anche loro danno i vestiti, danno le cose per cambiarsi, eccetera, eccetera. Poi c'è qualche altra associazione, che non mi ricordo più come si chiama, però mi sembra che fa un servizio di docce per permettere a queste persone di lavarsi, e poi naturalmente ci sono anche i servizi sociali col Comune, che ha il corrente e che coordina. Dimenticavo la Croce Rossa con il prefabbricato che la Croce Rossa insieme al Comune hanno messo nel parcheggio qui vicino al ponte. Che appunto quello è un, diciamo, ricovero d'emergenza, così chiamato, vero? Sì, è un ricovero d'emergenza in cui attualmente, se non sbaglio, ci sono ospitate nove persone. Quindi la nostra proposta vorrebbe dire, vorrebbe tentare un po' di alleggerire quella struttura lì, e dall'altra parte ci sono altre tre o quattro persone che vengono per strada, che dormono per strada e magari riuscire a dare un ricovero anche a loro. Quindi c'è grande disparità tra i posti disponibili e quelli invece che sarebbero necessari, soprattutto adesso che con l'inverno, credo, si è aumentata anche la necessità. Ma è un fenomeno di quest'ultimo anno. È un fenomeno di quest'ultimo anno perché fino a due anni fa, io sono qui da cinque anni, questo fenomeno non c'era. Quindi è una realtà di quest'ultimo anno a cui è già stata data una risposta immediata dall'amministrazione, dalla Croce Rossa e quindi ringraziamo il cielo. Questa mia proposta vuole essere soprattutto comunitaria. Cioè tanta gente dice ai poveri vai dal Don Cristian che poi ci pensa lui, vai dal prete che poi ci pensa lui. E va bene, venite da me, ma se ci mettiamo insieme forse qualcosa facciamo. E quindi è un modo anche per rilanciare il problema. Il problema non è solo del prete, ma il problema è di tutta la comunità di Sondrio, sia cristiana che non cristiana. Faceva proprio cenno al fatto che è un'emergenza, diciamo, che è esplosa nell'ultimo anno e alla quale si è cercato e si sta cercando ancora di dare ulteriore risposta. Diceva, è qua da alcuni anni ormai a Sondrio, ha visto cambiare perciò la realtà della città anche in questo senso, ma in generale sulle nuove povertà. Sì, però tenete presente che io arrivo da Como, quindi a Sondrio non ci sono i poveri. Cioè se li paragono, esagero un pochettino, provo con pochettino, se li paragono a quello che vedevo a Como, stiamo parlando davvero di nove persone nel prefabbricato della Croce Rossa, stiamo parlando di 4-5 persone che dormono per strada e le conosciamo tutte per nome. I servizi sociali li conoscono per nome, i volontari, i City Angels che hanno iniziato in questi ultimi mesi il loro servizio li conoscono per nome, per cui è una situazione molto sotto controllo, molto tranquilla. È cambiata, sono aumentato, come dicevo, è un problema recente, ma infatti l'amministrazione comunale, se non ricordo male, ha in previsione di ampliare il centro di prima accoglienza perché i posti non sono sufficienti, eccetera. Quindi è un'emergenza a cui cerchiamo di dare una piccola risposta in attesa che poi le cose evolvano. Diceva che li conoscete per nome, proprio perché essendo numeri contenuti, anche se insomma Sondrio non è una città grande, essendo numeri contenuti c'è anche un rapporto personale. Che storie hanno queste persone? Io dico sempre che se io avessi la loro testa sarei anch'io nella stessa situazione. Cioè è vero che ti capita questo problema, ti capita quest'altro problema, eccetera, ma tante volte è proprio questione di testa, di mentalità, di modo di affrontare la vita. Poi magari hai avuto qualche caduta, hai fatto qualche sbaglio, non ti riesci più a rialzarti, ma non hanno nemmeno la forza per rialzarsi. Non hanno nemmeno la grinta per rialzarsi. Quella grinta che probabilmente tante altre persone, di fronte a una crisi lavorativa, a una crisi familiare, a un episodio di droga, a una situazione di alcolismo, sono riusciti a reagire, perché magari aiutati anche dalla famiglia, aiutati anche dalla società, loro con le loro forze, con la loro testa e senza aiuti, sono così. E allora c'è un modo per intervenire, prima che situazioni di emarginazione, perché diceva prima, magari si tratta di persone che non hanno attorno una rete di familiari, insomma, di qualcuno che li sostenga di fronte a un problema. C'è un modo di intervenire prima che la situazione dei generi diventi, tra virgolette, cronica? E forse l'unico modo è recuperare un senso di comunità, un senso di famiglia, un senso di fraternità, che sono tutti i temi, cari a Papa Francesco. Cioè, se a Sondrio, ma se nel mondo, al posto di pensare solo a se stessi, a pensare a star bene solo a se stessi, iniziassimo a occuparsi anche degli altri, a preoccuparsi del vicino di casa, a preoccuparci della persona che incontriamo per strada, ecco che forse si riescono a creare delle relazioni che possono essere preventive in confronto a queste cose. Altre soluzioni facili, io non le vedo, non le conosco, non so. Ecco, ci manca bene. La rete di associazioni che c'è in città funge un po' da, appunto, anche da sostegno nel senso di comunità che si raccoglie attorno alle persone più fragili. Sì, sì, è bellissima a Sondrio. C'è un volontariato molto attivo, c'è un volontariato vivace, ci sono tante realtà belle, con tante persone che ci mettono il cuore, ci mettono il tempo, ci mettono la passione, l'intelligenza, e quindi, ma non solo nel campo di questa povertà, ma anche in tutti gli altri settori. C'è in tutti, sia in parrocchia che anche nelle associazioni, ho l'impressione che ci sia il problema del ricambio generazionale, per cui anche qui facciamo appello, ecco, se qualcuno vuol dare un'oretta, due orette, un pomeriggio al mese, un pomeriggio alla settimana, eccetera, c'è la possibilità di far tanto del bene, e tante associazioni a Sondrio hanno bisogno. Don, ricordiamo allora l'appuntamento per l'incontro, che servirà per raccogliere eventuali adesioni di volontari, per l'apertura di un nuovo spazio all'oratorio. Sì, giovedì sera alle ore 21, nel Salone della Chiesa della Veata Vergine del Rosario, in Via Milano, e sarà presente insieme a me anche la Caritas di Ocesana, anche perché è un'esperienza simile a Como l'hanno già sperimentata, la stanno già facendo da un paio d'anni, quindi noi con tanta semplicità proporremo, faremo la nostra proposta, raccoglieremo un pochettino i suggerimenti anche di chi c'è lì, di chi è, vediamo se abbiamo la forza per metterla in atto, e poi speriamo il più presto di riuscire a partire, anche se nella mia intenzione è che è solo una situazione emergenziale per l'inverno, quindi adesso c'è il problema del freddo, e quindi tamponiamo il problema del freddo, dopodiché ad aprile il freddo non c'è più, ripassiamo la palla ai servizi sociali, ripassiamo la palla a chi di dovere per fare dei progetti con queste persone. Grazie, grazie mille Don Bricola della sua partecipazione. Grazie a voi e buona serata a tutti. Anche da parte mia buona serata e l'appuntamento, se vorrete, alla settimana prossima. Grazie mille Don Bricola della sua partecipazione.